Musica Si è svolta questa mattina nella splendida cornice del castello ducale di Cele Messapica la prima delle due giornate del Musica Viva Festival organizzato dal conservatorio Tito Schipa di Cele Messapica in collaborazione con l'amministrazione comunale. Open Day è il titolo della piccola rassegna musicale che ha avuto come protagonisti i giovani allievi della scuola. Un corteo di musicisti che ha rallegrato la città e il suo centro storico per esibirsi nelle aule del castello ducale dove è allocata proprio la sede celliese del Tito Schipa e dove la musica ha incontrato i cittadini, gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado con concerti, esibizioni, lezioni ed incontri con i docenti. L'arte non ha significato se non comunica, se non entra in contatto con la gente e la musica è un grande canale di comunicazione per questo la città oggi si veste di musica, ha dichiarato il presidente del conservatorio Nicola Ciraci. Il Tito Schipa e il conservatorio ormai è un elemento di eccellenza del mondo della cultura e delle università in Puglia e nel Mezzogiorno. Oggi la dimostrazione, soprattutto alle scuole, che sono chiaramente coloro che sono più interessati alla musica, alla cultura, al conservatorio e sono invitati all'interno di questa splendida cornice del castello all'open day. Praticamente noi ci presentiamo, agli studenti in particolare delle scuole di ogni ordine e grado e facciamo vedere quello che realmente si fa all'interno del conservatorio. Quest'anno abbiamo attivato ulteriori insegnamenti, diciamo c'è una formazione che è praticamente completa che parte dal pre-accademico e va a finire fino all'istituzione universitaria. Nell'ambito di queste iniziative oggi c'è questo incontro con le scuole, domani c'è un saggio che presentiamo al teatro sempre qui nella città di Ceglie e il 29 e il 30 abbiamo l'onore di ospitare il premio delle arti, sezione canto lirico organizzato dal Ministero della pubblica istruzione che ha scelto Ceglie come sede per le selezioni dei cantanti lirici. Credo davvero che quest'anno possiamo dire che il conservatorio ha fatto il proprio dovere. Quali sono le novità per il prossimo anno? Sicuramente ci sono ulteriori insegnamenti, in particolare c'è un interesse per il mondo del jazz, stiamo istituendo ulteriori tre cattedre in modo che possiamo completare il percorso formativo da offrire agli studenti. E domani il Musica Viva Festival si concluderà con il concert al teatro comunale a partire dall'eventi, aperto gratuitamente a tutti i cittadini e che vedrà la partecipazione di docenti e alunni del conservatorio Tito Schipa diretti dal maestro Pierluigi Camicia. Grazie! 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 Grazie!